buongiorno a tutti spero riusciate a vedermi e sentirmi abbastanza bene magari scrivetelo in chat se sentite che l'audio non va bene cos'è almeno cerchiamo di risolvere tutto nell'istante aspettiamo qualche minuto in modo tale di vedere se riescono a collegarsi tutti quanti e nel frattempo magari mi presento io mi chiamo Mirka Lamperti e lavoro con gruppo Maurizio mi occupo nello special modo di etichettatura mi state dando dei riscontri li vedo dalla chat quindi si sente tutto si vede tutto e sono molto contenta perché non sempre è saputo risolvere eventuali problemi logistici legati a internet e al sistema comunque mi prendo mi chiamo Mirka Lamperti e lavoro con gruppo Maurizio mi occupo di etichettatura di prodotti alimentari in particolar modo di etichettatura sia per quanto riguarda paesi dell'Unione Europea Italia o comunque Unione Europea e di paesi extraeuropei non ho sempre fatto il lavoro di consulenza ma ho lavorato per sei anni in un'azienda alimentare e mi occupavo appunto sia di controllo qualità ho lavorato in parte in ricerca e sviluppo in parte in laboratorio e poi successivamente mi sono specializzata invece nel rapporto con tutta la clientela europea ed extraeuropea e in particolar modo appunto delle etichette che dei prodotti, dei miei prodotti che venivano gestiti sia per un mercato europeo che per un mercato extraeuropeo questa è un po' la mia storia Aspettiamo ancora qualche minuto e poi nel frattempo facciamo così che provo a duplicare lo schermo in modo tale da mostrarvi le mie slide ok dovrebbero vedersi partiamo magari con una panoramica giusto per definire chi è il gruppo in Italia con sede a Roma e Milano ed è una realtà nel campo della consulenza in questa slide sono rapportati tutti i servizi di consulenza che noi abbiamo e con noi ci interfacciamo e ci occupiamo partendo dalla sicurezza alimentare la sicurezza alimentare vuole essere un aiuto e un supporto per tutte le aziende per le piccole e grandi realtà per quanto riguarda magari l'implementazione delle certificazioni come possono essere le certificazioni richieste della GDO quindi BSI, FES aiuto e supporto con le conoscenze dei nostri tecnici e aiutare le aziende nell'entrare appunto in questi campi dando appunto tutta la nostra bagaglia di conoscenza sempre nel campo della sicurezza alimentare rientrano anche quelle certificazioni come ad esempio la certificazione kosher o chi vuole approcciare al mondo del biologico o al mondo della LAL magari un po' più specifiche richieste da una piccola nicchia di clienti sempre nel campo della sicurezza alimentare fai inoltre parte il mio lavoro come vi dicevo prima di etichettatura dei prodotti alimentari possiamo aiutare appunto le aziende a sviluppare ex novo un'etichetta quindi partendo da zero progettando un'etichetta per un determinato paese nel quale si intende esportare quindi vedere quali sono le richieste fondamentali che tale paese richiede e creare appunto l'etichetta e quindi la carta di identità del mio prodotto in conformità alle normative di uno specifico paese oppure possiamo pensare appunto di revisionare un'etichetta che magari abbiamo già fatto per un prodotto per vedere se in linea con le effettive richieste il gruppo Maurizio non è solamente sicurezza alimentare ma è anche sicurezza ambientale i nostri tecnici infatti abbiamo dei tecnici specializzati per quanto riguarda le emissioni magari di gatto, delle polveri le emissioni di ripiuti, le emissioni sonori lavoriamo in tutta Italia quindi campionamenti, eventuali analisi possiamo effettuarli su tutto il territorio nazionale tanto in sicurezza ambientale quanto ad esempio in sicurezza sul lavoro è sempre dedicato per tutte le realtà quindi dalle piccole aziende alle grandi aziende produttive abbiamo anche tutta una serie di attività per quanto riguarda la formazione e i master questo pomeriggio la mia collega Angela Evangelista terrà un webinar anch'esso gratuito un po' come stiamo facendo magari per stemperare questi giorni che sono un po' sui generis cerchiamo di dare appunto una formazione in questo caso magari appunto tramite webinar con delle piccole pillole che possono essere sempre d'aiuto per le aziende ma anche una formazione più specifica a neolaureati ma anche a professionisti del settore per quanto riguarda le varie tematiche di sicurezza alimentare il webinar di questo pomeriggio prevede la proposta di master di Food Safety Expert tutto per ricordare anche che abbiamo un laboratorio interno con sede a Roma un laboratorio accreditato con più di 300 prove accreditate che effetto analisi sia su prodotti di matrice alimentare sia non di matrice alimentare come ad esempio acqua, rifiuti, prove di shelf life insomma è un laboratorio completo a farvi comprendere i risultati magari di alcune analisi cercando molto appunto il rapporto con il cliente questo vale un po' per tutti i nostri settori qual è il programma di questo webinar? perché proprio la Corea? diciamo che facciamo una presentazione generale perché ho scelto la Corea e com'è la situazione anche dell'export italiano in questo paese passando per tutte le strutture del settore alimentare che possono essere fondamentali appunto e che governano tutto il territorio coreano passando poi per le proprie legislazioni alimentari e necessarie da riportare in etichetta una cosa che non vi ho detto è che come vedete sulla chat che avete sulla destra dove avete già iniziato a scrivere potete fare una serie di domande le domande darò risposta solamente alla fine del webinar anche perché non ho possibilità appunto di vederle e di fare l'aspirazione nel frattempo di rispondere alle domande se qualche domanda richiede un approfondimento in più magari vi invierò una mail specifica con le informazioni alla fine del webinar vi verrà mandato un questionario di gradimento a cui dovete rispondere se volete in modo tale che possiamo orientarci anche per futuri webinar che vogliamo ottenere e capire quali sono gli argomenti di maggior spessore partiamo direi quindi con entriamo nel vivo insomma un po' del webinar e parliamo appunto qualsiasi azienda produttiva che intende esportare in questo paese si deve porre è se il mercato è vantaggioso la Corea del Sud ha avuto un rapido processo di crescita economica e di integrazione nell'economia mondiale tant'è che è definita una delle quattro tigre asiatiche unitamente a Giappone, Cina e India la Corea del Sud ha un potenziale agricolo che è piuttosto limitato dovuto comunque alla conformazione del suo territorio ma c'è da dire che anche una popolazione di circa 50% avendo un potenziale strutturale territoriale molto limitato fa raffidamento necessariamente alle importazioni tant'è che le importazioni di prodotti alimentari all'interno di questo territorio rappresentano circa il 70% del suo fabbisogno la prospettiva di mercato sembra buona ma chi sono i principali competitor di questo mercato? abbiamo innanzitutto gli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno una potenza hanno un fatturato più o meno di importazioni di circa 5,4 miliardi di dollari successivamente abbiamo la Cina e l'Australia tenendo conto che la Corea ha più o meno 168 paesi fornitori i primi 10 paesi fornitori per questi 168 quasi raggiungono il 70% del totale dell'importazione e l'Italia riesce comunque ad avere una buona classifica mettendosi più o meno all'ottavo posto come paese importatore con una quota totale sull'importazione di circa il 3,9% di dollari c'è un accordo di libero scambio inoltre tra l'Europa e la Corea del Sud che ha migliorato le importazioni nel 2016 con l'ultimo abbattimento dei dazi doganali che ha cancellato appunto questi dazi di importazione su quasi tutti i prodotti alimentari abbiamo ancora una migliore gestione delle importazioni tra Europa e Corea del Sud sottolineiamo inoltre che la popolazione appunto la Corea del Sud ha un elevato potere di acquisto pro capite avendo un elevato potere di acquisto e comunque dipendendo dall'importazione alimentare questo fa sì che il coreano è disposto a pagare di più per una migliore qualità dei prodotti ed è qui che il made in Italy fa un po' il suo ingresso quindi il food italiano è visto in Corea del Sud come un mercato di eccellenza e quindi è molto propenso appunto l'importazione di prodotti italiani in questo tipo di mercato tant'è che la gastronomia italiana è vista dal popolo coreano come sinonimo di qualità e quindi disposto anche a pagare molto di più questo tipo di qualità parliamo un po' della struttura interna ed è i principali ministeri e agenzie che riguardano il sistema agroalimentare coreano quali sono? abbiamo il Ministero della Sicurezza Alimentare e Farmaceutica ovvero il Ministro Food and Drug Safety il Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione e degli Affari Rurali e il Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia prima del 2013 non vi era questa organizzazione tant'è che avevamo una Food and Drug Administration un altro piccolo ministero che si occupava magari prevalentemente delle importazioni un altro che si occupava di etichettatura dal 2013 tutto cambia vengono tutti riuniti all'interno dell'MFDS che assume la carica di ministero una delle prime cose che ha fatto quindi l'MFDS come ministero è stato quello di redigere uno special act per il controllo dei prodotti importati cosa succede? qualsiasi prodotto alimentare che entra in territorio coreano deve essere registrato così come deve essere registrato il suo importatore e il produttore il relativo produttore questo perché è fondamentale? perché dipendendo come avevo detto prima per il 70% dalle importazioni era necessario avere un minimo comun denominatore per poter gestire tutti i diversi importatori provenienti da paesi diversi e quindi era necessario creare una sorta di regolamentazione per il controllo di questi prodotti questa vignetta che è riportata nel sito dell'MFDS nel sito inglese rappresenta in maniera schematica le diverse procedure che sono state messe in atto dagli enti governativi coreani questo perché appunto vi dicevo la gestione della sicurezza degli alimenti importati è di fondamentale importanza per il Ministero della Sicurezza Alimentare e Farmaceutica come vediamo da questo schema l'importazione dei prodotti alimentari è possibile da tutti i paesi a seconda poi del tipo di prodotto possono essere richiesti certificati specifici come ad esempio un certificato sanitario per prodotti cani e prodotti derivati piuttosto che un certificato fitosanitario per frutta e verdura prima dell'importazione è comunque necessaria la famosa, come vi dicevo prima registrazione del produttore estero e del relativo importatore è poi possibile anche una ispezione in loco da parte dell'MFDS al sito di produzione straniera al fine di verificare che tutto sia a norma e conforme appunto con le regolamentazioni previste nel territorio coreano una volta che abbiamo appunto la validazione del mio fornitore del mio produttore straniero questo viene registrato la registrazione è valida per due anni ed è successivamente rinnovabile può essere effettuata direttamente dall'azienda esportatrice o dall'importatore locale è importante registrazione sia come vi dicevo del fornitore ma anche della tipologia di prodotto che stiamo andando a esportare e importare in territorio coreano una volta che è fatta questa registrazione ed il prodotto quindi ammesso all'entrata nel territorio coreano vi possono essere anche dei controlli aggiuntivi che vengono fatti alla dogana sia da parte appunto a livello documentale sia per opera di un sistema che appunto è denominato opera che sta per observation and prediction by endless risk analysis ovvero che cos'è? è un sistema automatico che classifica gli importatori in base alla loro storia di importazione al tipo di prodotto che importano ai volumi al paese di provenienza scusate del tipo di prodotto e questo sistema verifica che se sono necessarie ulteriori o meno ispezione al tipo di prodotto se sono necessari vengono richieste quindi al fornitore altrimenti il prodotto può essere immesso può essere sdoganato e si può procedere alla sua commercializzazione questo è un po' lo schema che deve essere seguito per quanto riguarda l'etichettatura cosa facciamo riferimento a quale regolamentazione ci dobbiamo basare per poter effettuare una corretta etichettatura e mettere un prodotto in territorio coreano facciamo riferimento al food code il food code è un regolamento che viene aggiornato molto di frequente l'ultima edizione del 2019 quindi piuttosto recente definisce gli standard e le specifiche per i prodotti alimentari inclusi anche i livelli di pesticidi di contaminanti che possono essere ammessi e fornisce le linee guida comunque nel campo della sicurezza alimentare abbiamo poi il labeling standard of food anche in questo caso abbastanza aggiornato abbastanza di serie di frequente dove abbiamo tutte le informazioni obbligatorie che devono essere riportate in etichetta a seconda del tipo di prodotto poi il food additives code quindi per quanto riguarda un codice per gli additivi che è ammessi nei prodotti alimentari in corea i quantitativi massimi e poi uno standard per quanto riguarda invece i materiali di imballaggio ammette anche questo per la commercializzazione in corea una nota principale che viene fatta al lettore ed è sempre presente nei siti vi ho messo i siti internet dove si possono andare a scaricare le traduzioni inglesi di questi codici è che se ci sono delle differenze tra il testo in inglese e il testo in coreano è sempre il testo in coreano che è la meglio quindi la traduzione in inglese va bene ma se ci sono delle differenze tra questa e la traduzione in coreano in ogni caso si fa riferimento al testo in coreano ma quali sono le informazioni obbligatorie che dobbiamo riportare in etichetta e come queste differiscono magari da quelle che siamo abitualmente che siamo appunto abituati a vedere che possono essere quelle tipiche appunto di un territorio commerciale di un prodotto commercializzato in Italia o nell'Unione Europea a cascata ho messo le informazioni che devono comparire che sono necessarie per realizzare un'etichetta conforme alle richieste coreane quindi il nome del prodotto o sul main display panel e dopo andremo a vedere quali sono cosa si intende con principal display panel e information panel la quantità netta e il contenuto calorico se il prodotto è soggetto a una dichiarazione nutrizionale la lista degli ingredienti le dichiarazioni degli allergeni paesi di origine la data di produzione se il prodotto è soggetto a data di produzione e vediamo quali poi sono soggetti e data di esperienza le condizioni di conservazione l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile e dell'importatore coreano la dichiarazione nutrizionale e raccomandazioni d'uso quindi condizioni d'uso se necessarie tutte queste informazioni vanno a definirmi la mia etichetta espressa ovviamente in lingua coreana che verrà messa sul mio prodotto come devono però essere espresse queste informazioni? ho detto adesso che le informazioni devono essere espresse in lingua coreana devono essere informazioni riportate in etichetta in maniera chiara leggibile veritiere e non ingannevoli i caratteri possono essere stampati sul packaging o incisi oppure possiamo utilizzare degli sticker o delle etichette purché non siano facilmente removibili se decidiamo di avere un pack ad hoc per la Corea è necessario che le informazioni riportate sul mio pack siano facilmente visibili quindi che lo sfondo del mio packaging sia tale da permettere la visione dei caratteri i pannelli di visualizzazione sono due come vi dicevo abbiamo un'area principale di informazioni quindi il main display surface e un information display surface il main display surface è quell'area che è più generalmente più esposta al consumatore al momento della vendita e l'information display surface è dove andiamo invece a spiegare tutte le diverse informazioni al nostro utilizzatore finale vediamo appunto che abbiamo diverse definizioni di main display surface e information display surface ad esempio in questo caso abbiamo un'unica etichetta dove andremo a definire per metà il main display surface con il nome del prodotto e la quantità netta e la seconda metà invece andremo a inserire tutte le informazioni obbligatorie per il mio prodotto in questo tipo di etichetta invece che una sticker label dove vediamo ad esempio all'interno il mio prodotto avremo metà sempre definita come main display surface quindi il nome e l'altra metà invece per l'informazione addizionale in questo prodotto una busta di patatine abbiamo un'area principale quella più esposta al consumatore sempre con il nome con la quantità netta e sul retro invece tutte le altre informazioni i caratteri variano a seconda del tipo di informazione che vogliamo indicare in etichetta in questa tabella vengono espressi tutti i caratteri tutte le dimensioni che devono avere le varie informazioni che vogliamo andare a riportare ovviamente se il packaging ha un'area inferiore a 200 cm2 quindi è più piccolo possiamo andare a rapportare queste informazioni con dimensioni differenti entriamo nel vivo poi delle informazioni che devono essere riportate in etichetta ed è una delle prime informazioni come vi dicevo è il nome del prodotto nel momento in cui io vado a registrare il mio prodotto nel sistema che vi ho elencato nelle prime slide quindi vado a registrare la registrazione del mio prodotto il nome del prodotto deve coincidere il nome del prodotto riportato in etichetta deve coincidere con quello dichiarato in fase di registrazione e deve essere poi tradotto in lingua coreana se il nome del prodotto comprende anche l'indicazione di un aroma quindi quando usiamo un aroma artificiale per dare gusto al prodotto e questo fa parte questa aroma fa parte del nome stesso allora devo aggiungere una frase specifica ovvero faccio un esempio caramella della fragola con aroma artificiale aggiunto cioè deve essere inserita la specifica con aroma artificiale aggiunto vicino al nome del prodotto un'altra cosa se riportiamo un quid quindi è necessario indicare il contenuto in percentuale dell'ingrediente caratterizzante se quest'ultimo è richiamato all'interno del nome del prodotto quindi l'ingrediente caratterizzante non è riportato solamente in lista ingredienti con la sua percentuale relativa ma deve essere riportato anche sul principal display panel è il caso di questi tipo macaron al gusto fragola dove vediamo al di sotto in cui viene riportata sia la quantità netta ma una serie di percentuali che corrispondono presumo al quantitativo di fragola inserita all'interno del prodotto e al relativo aroma quindi dobbiamo riportare appunto questa informazione non soltanto in lista ingredienti ma anche all'interno della principale del display panel principale gli ingredienti gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente di peso da quello che ce n'è di più all'interno del mio prodotto a quello che ce n'è in quantitativo minore se gli ingredienti sono presenti in quantità inferiore al 2% sul totale del prodotto finito allora possono essere elencati senza seguire l'ordine di peso quindi in ordine casuale i sotto ingredienti degli ingredienti composti devono essere elencati ma se l'ingrediente composto è inferiore al 5% sul totale del prodotto allora possono elencare i suoi relativi sotto ingredienti un'altra informazione è che è obbligatorio riportare ingredienti derivanti di organismi geneticamente modificati se presenti come vi dicevo nella slide invece dove andavamo ad elencare le diverse legislazioni per quanto riguarda il settore dell'etichettatura veniva una in particolare per quanto concerne gli additivi infatti vi sono delle regole speciali per quanto riguarda i tipi di additivi e quali possono essere utilizzati all'interno dei prodotti alimentari come riportarli poi in etichetta con il nome completo dell'additivo seguito dalla sua funzione all'interno del prodotto finito anche gli aromi devono essere indicati con la loro specifica quindi se utilizziamo un aroma naturale deve essere seguito dal termine naturale o artificiale deve essere seguito dal termine artificiale più la tipo di specifica cioè il gusto ad esempio aroma naturale di vaniglia aroma artificiale di vaniglia quindi deve essere caratterizzato anche il gusto del tipo di aroma allergeni la Corea è il paese con più allergeni in assoluto abbiamo 19 tipologie di allergeni e qua elencati li abbiamo scritti tutti cosa notiamo? notiamo che ci sono degli ingredienti allergeni impensabili le pesche i pomodori il pollo comunque diversi da quelli che siamo abituati a vedere con il nostro regolamento europeo 1169 del 2011 l'indicazione degli ingredienti allergeni è effettuata in etichetta mediante una specifica quindi la specifica del contain contiene seguito dall'ingrediente allergenico effettivamente presente all'interno del mio prodotto finito l'indicazione del mei contain è obbligatoria se il prodotto è realizzato sulla stessa linea di lavorazione dei prodotti contenenti gli ingredienti allergenici e deve essere impiegata una frase come quella riportata qui sotto quindi il prodotto è fatto nella stessa azienda che produce prodotti con seguito dagli ingredienti allergeni devono essere sempre indicati questi ultimi anche se presenti in tracce ovviamente io ho linkato i principali ingredienti allergeni e tutti i derivati di quelli che ho riportato un'altra informazione che avevamo visto che deve essere obbligatoria e deve essere espressa appunto sulla nostra etichetta è la quantità netta la quantità netta è espressa in unità di massa o volume o numero di pezzi a seconda poi della natura del prodotto ci sono poi casi in cui se abbiamo un prodotto immerso liquido di governo in questo caso la quantità netta dobbiamo esprimere il peso escluso quello del liquido se l'imballo è invece un imballo multi-pack riportiamo sia il peso del singolo monopack unitamente al peso totale della confezione multipla se il prodotto è soggetto poi all'indicazione della tabella una dichiarazione nutrizionale è necessario riportare vicino al peso netto tra parentesi anche il quantitativo delle chilocalorie totali corrispondente al contenuto netto come vediamo in questo caso avremo 444 grammi che è il peso totale della mia confezione corrispondente a 2064 chilocalorie per quanto riguarda il peso netto abbiamo poi appunto dei specifici range di tolleranza che ho riportato nella tabella qui a fianco una cosa che differenza appunto magari dagli scenari che siamo abituati a vedere è che dobbiamo rapportare sulla nostra etichetta unitamente alla data di scadenza anche la data di produzione quindi entrambi data di scadenza data di produzione sono delle informazioni che devono essere riportate su questi prodotti non tutti hanno l'obbligo però di riportare la data di produzione quali sono i prodotti che la prevedono i cibi prodotti al consumo ad esempio lo zucchero il sale i gelati i liquori come possiamo esprimere queste informazioni possiamo esprimere la data di produzione o con le due cifre intanto in modalità anno mese giorno quindi diverso dal nostro che è giorno mese anno possiamo esprimere con le due cifre per l'anno le due cifre per il mese e le due cifre per il giorno seguita appunto dalle indicazioni di che cosa corrisponde le due delle rispettive cifre oppure solamente le cifre oppure riportare l'anno con le quattro cifre con le quattro cifre che lo rappresentano se la data di produzione non è indicata nel campo visivo delle informazioni principali è possibile riportare la procedura scusatemi la dicitura data di produzione due punti vedi l'auto della confezione insomma il posto esatto dove viene stampata se come ad esempio nel caso europeo dove noi andiamo a esprimere la data di produzione sotto forma di giorno mese anno e non abbiamo possibilità di riportarla in maniera diversa possiamo comunque riportarla nel formato europeo purché diamo spiegazione al mio consumatore coreano di come leggere questa data quindi magari unitamente alle cifre definire le cifre che rappresentano anno cosa rappresentano queste cifre quindi proprio scritto la modalità di lettura stessa cosa per la data di scadenza o il termine minimo di conservazione la modalità di espressione è identica quindi due cifre per l'anno mese giorno oppure quattro cifre per l'anno mese giorno e se espressa appunto in campi diversi dal campo dell'informazione principale deve essere comunque riportato data di scadenza vedi lato del PEC se confezioniamo prodotti se vengono confezionati scusate insieme diversi tipi di prodotti sull'etichetta comunque deve essere indicata la data di scadenza del prodotto con la durata più breve unitamente la data di scadenza o la durata di conservazione deve essere anche accompagnata da condizioni speciali per l'uso o la conservazione infatti per quanto riguarda appunto la modalità di conservazione a seconda del prodotto e sia applicabile è necessario quindi riportare tutte le informazioni riguardanti le modalità di conservazione del prodotto sia prima dell'uso sia dopo l'uso questo è necessario non c'è nessuna indicazione riguardo il lotto di produzione le modalità sono rilasciate comunque all'azienda allora per quanto riguarda il paese di origine è necessario riportare un'indicazione di origine come con l'espressione country of origin due punti seguito il paese o made in seguito dal paese quindi nel nostro caso country of origin Italy made in Italy dove riportare queste informazioni se la riportiamo dobbiamo riportarla vicino al nome del prodotto quindi sopra sotto destra sinistra in modo tale che comunque l'indicazione dell'origine e il nome del prodotto sia visibile in un solo colpo d'occhio quindi prodotto e paese di origine se riportata sul principal display panel questa informazione deve essere alta almeno la metà della dimensione del carattere utilizzato per il nome del prodotto oppure rispettare l'area della nella mia etichetta e i rispettivi appunto le rispettive altezze riportate in questa tabella nella tabella che vedete è poi necessario riportare il nome e l'indirizzo del produttore e dell'importatore non è necessario tradurre in coreano il nome e l'indirizzo del produttore se è straniero possiamo riportarlo in caratteri occidentali se però la società produce il prodotto in oggetto in un altro sito è necessario indicare il sito soggetto in etichetta ed è ovvio che il nome del produttore e il nome dell'importatore devono essere quelli che sono stati registrati in fase di registrazione preliminare del mio prodotto passiamo alla dichiarazione nutrizionale la dichiarazione nutrizionale è sempre all'interno del food labeling standard ed è obbligatoria per una vasta gamma di prodotti è obbligatoria per ad esempio prodotti da forno pane piuttosto che prodotti dolciari ciambelle marmellate destri accongelati bevande salse di soia pasta insomma l'elenco comunque dettagliato e presenta all'interno del food labeling standard la dichiarazione nutrizionale ha l'obbligo di presentare almeno i seguenti nutrienti che sono le calorie il sodio i carboidrati di cui zuccheri i grassi di cui trans e saturi il colesterolo e le proteine questo è l'ordine in cui devono essere rappresentati con le rispettive percentuali di riflessio se presenti degli specifici claim in relazione ad altri nutrienti questi nutrienti devono essere elencati e devono essere presenti in tabella nutrizionale il contenuto nutrizionale deve poi essere espresso in termini di contenuto totale del prodotto per quei prodotti che cedono i 100 grammi o i 100 ml e il loro contenuto poi è maggiore di 3 volte la quantità di riferimento per una porzione possiamo esprimere la tabella nutrizionale per 100 grammi o 100 ml abbiamo anche in questo caso delle tolleranze sui valori nutrizionali dichiarati in etichetta sul valore che io riporto e per quanto riguarda quindi un intervallo di tolleranza tra il valore indicato dalla componente nutrizionale in etichetta e il valore effettivamente misurato mediante analisi e vediamo appunto che il valore misurato effettivo di calorie sodio zuccheri grassi trans saturi e colesterolo deve essere inferiore al 120% del valore dichiarato mentre per quanto riguarda proteine fibre carboidrati vitamine minerali dovrebbe essere superiore all'80% del valore indicato come rapportare poi questa indicazione all'interno della tabella nutrizionale ho voluto mettere tutte le modalità di cui devono essere con cui devono essere espresse i nutrienti ad esempio vediamo le calorie devono essere espresse in kilocalorie e il valore può essere tal quale o arrotondato alle più vicine 5 kilocalorie se inferiore a 5 kilocalorie posso comunque indicare 0 e per il calcolo è dato dalla sommatoria dei carboidrati proteine e grassi moltiplicati per i rispettivi fattori di conversione e qua vediamo appunto come esprimere in maniera corretta in funzione dei risultati ottenuti da calcolo piuttosto che da analisi tali valore all'interno della tabella nutrizionale prevista per il mercato coreano sempre in questa slide ho riportato i valori nutritivi di riferimento per il calcolo delle percentuali che sono ovviamente diversi rispetto a quanto indicato per il mercato europeo e sono specifici appunto per quelli coreano le modalità di dichiarazione della tabella nutrizionale possono essere differenti possiamo avere appunto un formato verticale nel quale andiamo a inserire tutte le informazioni appunto in maniera verticale a seconda poi di adattamento appunto del tipo di PEC oppure formato orizzontale o in formato semplicato vi sono poi una serie di informazioni aggiuntive che dobbiamo inserire se il nostro prodotto contiene determinate materie prime come ad esempio se il prodotto contiene aspartame deve seguire l'indicazione contiene filenalina se il prodotto contiene adesso ne elenchiamo qualcuno comunque polialcoli deve seguire l'indicazione una dose eccessiva può avere effetti lassativi per prodotti che contengono semi di lino come materia prima necessario un'ulteriore indicazione ovvero che l'assunzione giornaliera non deve superare i 16 grammi e l'assunzione di una singola dose non deve superare i 4 grammi alimenti con un determinato contenuto di caffeina devono riportare la frase ad alto contenuto di e il quantitativo di contenuto totale di caffeina che deve essere espresso sul pannello principale oppure quando si impiegano delle immagini sul pack che rappresentano alimenti cotti deve essere inserita la frase esempio di cottura oppure l'immagine solamente esemplificativa queste devono essere contrassegnate usando un carattere ed un'altezza paga ad almeno 10 punti vicino alla fotografia o all'immagine che viene utilizzata una specifica poi per alcuni claim ogni indicazione che vedete sopra ad esempio HCCP ISO 22000 COSCHER ALAL e relativi simboli che possono esserci sul pack deve essere preventivamente approvata dal Ministero della Sicurezza Alimentare e Famaciale Cosa significa? Che se abbiamo un prodotto un pacchetto quindi un pack dove abbiamo una frase che contiene un'indicazione che non è approvata faccio un esempio prodotto in un'azienda certificata ISO 9001 2015 da lente di certificazione questa frase non è approvata dall'MFDS quindi deve essere coperta con un'etichetta perché appunto non è riconosciuta dal lente è necessario quindi coprire appunto tale indicazione oppure rapportarsi con il proprio importatore e le relative autorità di controllo per capire se gli enti o il logo riportato in etichetta può essere riconosciuto meno dal Ministero coreano questo questo è importante perché può andare a creare poi delle difficoltà anche a livello proprio produttivo se si utilizzano magari dei PEC propri per il mercato magari europeo dove viene solamente inserito un'etichetta con l'indicazione in lingua coreana tutto deve essere comunque preventivamente approvato dagli enti coreani un'altra informazione riguarda informazioni specifiche per i materiali di confezionamento come potete vedere appunto in questi incarti viene evidenziato viene riportato sempre il simbolo dei materiali con cui sono effettuati i PEC per i metalli abbiamo invece delle altre indicazioni in questo è obbligatorio riportare il simbolo dei materiali di imballaggio dal primo gennaio del 2003 ora mi sembra di aver visto le principali informazioni che potevano esserci per quanto riguarda un'etichettatura per il prodotto per un prodotto destinato al mercato coreano vi ringrazio per l'attenzione adesso volevo vedere scusatemi precedente volevo uscire dalla condivisione dello schermo e vedere ok e vedere se ci sono delle domande ulteriore allora con quale criterio è stato non leggo tutto questa domanda con quale criterio è stato l'elenco non riesco a vedere tutte le domande provo a copiarla su un foglio con quale criterio è stato stilato l'elenco degli allergeni vi sono evidenze per le quali sono stati identificati come allergeni prodotti contenenti pollo e maiale allora per quanto riguarda l'elenco degli allergeni questo elenco si ritrova all'interno del food labeling code coreano l'elenco degli allergeni come vi dicevo è diverso per la Corea loro identificano come ingredienti allergeni anche questi che non sono propri del mercato europeo quindi cosa succede che ci ritroviamo ad avere degli allergeni che tendenzialmente noi operatori del settore alimentare europeo non gestiamo con tradizionalmente è importante richiedere quindi sempre per qualsiasi tipo di esportazione che stiamo facendo quindi che sia destinato magari a un paese ex europeo la conformità ai nostri fornitori di materie prime anche per quelli allergeni propri del mercato a cui stiamo andando a esportare il prodotto quindi richiedere sempre se anche per questi tipi di allergeni non comuni sono presenti o meno nelle materie prime e magari in base poi alle risposte che danno i nostri fornitori fare un'ulteriore verifica se presenti o meno all'interno del nostro prodotto finito in ogni caso ripeto che anche se sono presenti in tracce devono essere dichiarate all'interno del nostro PEC le informazioni obbligatorie leggo un'altra domanda buongiorno per le indicazioni dell'origine di prodotti trasformati cosa si fa riferimento alla materia prima oppure al prodotto finito trasformato al prodotto finito trasformato da dove proviene quindi in questo caso Italia sì 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 decisamente all'azienda dove abbiamo la trasformazione del mio prodotto le informazioni vado avanti con un'altra domanda le informazioni obbligatorie devono essere indicate secondo uno specifico formato grafico o è sufficiente rispettare le regole riguardo le dimensioni del carattere il formato grafico è sempre quello coreano e per quanto riguarda quindi devono essere espresse in lingua coreana e per quanto riguarda le dimensioni si fa riferimento a quella tabella che vi ho elencato dove abbiamo tutte le le altezze necessarie per poter riportare le informazioni quindi avremo appunto delle altezze definite per quanto riguarda il nome del prodotto per le allegge per la lista degli ingredienti piuttosto che per la quantità netta ovvio che poi a seconda del tipo di etichetta se come vi dicevo è inferiore ai 200 cm2 abbiamo delle restrizioni di carattere il sistema di etichettatura coreano mi sembra più dettagliato scusate ma non riesco a leggere tutte le il sistema di etichettatura coreano mi sembra più dettagliato e restrittivo rispetto a quello italiano che è considerato uno dei migliori mi chiedo il sistema coreano è uno dei più dettagliati sono tutti dettagliati su alcune cose magari sì sono un po' più specifici fanno un po' più di finestre ma è complicato tanto quanto quello europeo forse perché lo conosciamo di più forse perché è più nelle nostre lo vediamo tutti i giorni ma a livello di difficoltà sono paragonabili secondo me per il make contain la modalità di espressione è diversa da contain ovvero in caso di contaminazione crociata si può indicare il make contain oppure in una senso deve essere indicato il make contain in caso di contaminazione crociata contain il mio prodotto contiene determinate materie allergeni quindi se io ho un prodotto come ad esempio un biscotto dove abbiamo come allergeni l'uovo il frumento e la soia devo dichiarare contiene uovo frumento soia può contenere che cosa tutti quegli ingredienti allergeni che vengono magari manipolati nella stessa linea di produzione ma che non ricadono nel mio prodotto finito ad esempio nella stessa linea di produzione faccio anche prodotti con nocciola con pesche con altri ingredienti allergeni e quindi devo andare a riportare in etichetta può contenere un prodotto anzi non può contenere un prodotto in un in un'azienda che sulla stessa linea di produzione che gestisce anche e l'ingrediente allergeni a seguire come sono valutate dal sistema coreano certificazione DOP e GP dei prodotti italiani però sincera non mi è ancora venuto non sono ancora mai non sono mai entrata nello specifico riguardo certificazioni DOP e GP non ho mai visionato al momento un'etichetta e dovrei andarlo a verificare posso andare mi segno comunque questa domanda e magari do una risposta a chi me l'ha chiesto mi segno anche il nome più nello specifico perché ripeto non mi è mai non mi è mai successo di andare a verificare quindi ok segno anche a chi interesserebbe non mi è mai capitato di andare a verificare quindi non saprei dare una risposta coerente e immediata l'ultima cosa che mi sono dimenticata di farvi vedere se avete un attimo di tempo volevo farvi vedere sempre dalle sempre per quanto riguarda gli altri webinar poi visto che ci sono altri delle domande ulteriori le vediamo volevo farvi vedere gli altri webinar che abbiamo in programma così almeno siete tutti sul test e spero si vedano dovrebbe aver condiviso lo schermo come vi dicevo pomeriggio abbiamo una presentazione del master food and safety expert mercoledì quindi domani per quanto riguardano i food delivery sempre mercoledì ISO 45001 del 2018 non mi è vantaggi per l'azienda giovedì tema di attualità quindi le ultime indicazioni per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro per il covid-19 venerdì il mondo del biologico sempre venerdì decreto cura Italia e lunedì 30 a rischio legionellosi nelle strutture recettive questo è un po' per tenerci sempre aggiornati in questo periodo che non è di routine diciamo lavorativa e per avere sempre una visione una documentazione insomma informarci sempre di più su tematiche magari durante le giornate lavorative tradizionali è sempre un po' più difficile perché abbiamo moli di lavoro e difficoltà ho visto che tanti sono interessati ai GPGOP quindi magari faccio una verifica e vi rispondo tramite mail sulle slide verranno condivise non lo so nel senso che molto spesso questi webinar che sono gratuiti si scrive sia l'azienda di produzione ma anche chi fa il mio lavoro quindi è sempre difficile capire a chi dare le informazioni e a chi non darle verranno valutate le informazioni magari ecco andremo a riproporre alcune cose tramite magari un articolo che può essere di interesse di tutti o magari qualche slide verrà condivisa io spero di avervi chiarito tutto vi ringrazio per il tempo dedicatemi e ricordo appunto come vi dicevo gli appuntamenti e vedremo poi quale altro paese andare a proporre ecco se avete anche proposte di indagini su etichettatura di altri paesi che vi possono interessare a voi all'azienda come informazioni benvenga in ogni caso vi scrivo qua il mio contatto email magari lo scrivo giusto ok vi riportate la mia mail e magari vi riporto anche il mio numero di telefono cosa meno se avete delle domande aggiuntive possiamo sentirci e magari approfondire insieme ti ringrazio a tutti e buona giornata grazie